Scrittore in erba ma già determinato a farsi largo nel mondo letterario. E' il piccolo Alessio Scarvaci che frequenta la seconda classe della scuola media dell'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di Capodorlando, diretto da Rita Troiani. Alessio, sotto legida della sua insegnante di lettere, Maria Chiara Lemboluscari, ha già ottenuto due importanti premi per i suoi scritti. Timido davanti alla telecamera, studente che eccelle anche nelle altre materie di studio, ha la passione per i fornelli. Il giovanissimo Alessio davanti al foglio è pronto a far andare la penna per vincere e pare proprio che abbia le idee chiare anche sul suo futuro. Ho pensato di... volevo scrivere bene per provare a vincere. Di che cosa parlavano i tuoi testi? Il primo di avere uno spazio tutto per noi, per rilassarsi senza pensare alla comunicazione e ai social. Mentre il secondo, alla libertà che tutti noi abbiamo il diritto di avere. Meglio scrivere sul quaderno o meglio scrivere su internet piuttosto che su whatsapp? Secondo me è meglio scrivere sul quaderno perché le cose ti restano più impresse nella mente. Ma tu da grande cosa vuoi fare? Io da grande vorrei fare o lo scrittore o il cuoco. Io ogni anno propongo la partecipazione a vari concorsi letterari, soprattutto nazionali ma anche regionali. E devo dire che gli alunni rispondono bene e partecipano con entusiasmo alle mie proposte. Quest'anno, sia durante la didattica in presenza che durante la didattica a distanza, ho proposto la partecipazione a due concorsi. Un concorso nazionale, racconta e scrivendo, proposto da un'associazione, la casetta degli artisti di Recanati. E un altro premio letterario, il premio Temis, proposto da un'associazione culturale di Bronte. E Alessio, in particolar modo, ha ottenuto un ottimo risultato. Grazie a tutti.